Il punto sulla foce della fiumara di Modica in località Rizza nel comune di Scicli è risultato entro i limiti ma nessuno pensi, comunica Lega Ambiente, che il problema della depurazione sia risolto. Nonostante le restrizioni per il distanziamento fisico imposte dalla pandemia, Goletta Verde di Lega Ambiente ha completato da pochi giorni 26 campionamenti in punti sensibili della costa siciliana e oltre 15 presentano risultati oltre i limiti di legge. Il campionamento effettuato alla foce del torrente Modica Scicli, commenta Alessia Gambuzza, presidente del circolo Lega Ambiente Chiafura di Scicli, questa volta ha fornito risultati entro la norma. Tiriamo un sospiro di sollievo, se non altro per non leggere il nome del nostro comune nella blacklist. I problemi da risolvere però rimangono tutti sul tappeto dal depuratore di Contrada Loderi, la cui condotta versa sul torrente Modica Scicli a circa 400 metri dalla foce, poi quello di Piano Conte, il cui funzionamento ancora parziale è gravato dalle costose sostituzioni periodiche del pietriscolo dei biofiltri. Mentre altre preoccupazioni provengono dallo stato delle condotte di adduzione e dagli impianti di sollevamento e di rilancio. Nel complesso la depurazione rimane un vero e proprio tallone di Achille, la cui gravità è acuita dalla richiesta di una migliore qualità dell'ambiente, dalle legittime aspettative di chi investe nel turismo. Per tali ragioni legambiente parla di un risultato purtroppo prevedibile. I dati ci consegnano un mare che non gode di buona salute. Dei 26 punti monitorati sulla costa, 15 risultano oltre i limiti di legge. Di questi, 10 sono stati giudicati fortemente inquinanti e 5 inquinati. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i principali veicoli con cui l'inquinamento microbiologico causato dalla cattiva depurazione o dagli scarichi illegali arriva in mare. A parlare, nel corso di una conferenza stampa tenuta al giardino in Axos, è stato il presidente di legambiente. Per la prima volta quest'anno la Goletta non segue il classico itinerario cost to cost a bordo dell'imbarcazione, che si prende una piccola pausa nel rispetto delle restrizioni per il distanziamento fisico imposte dalla pandemia. Il viaggio ideale lungo la penisola vive infatti di una formula inedita, ma che ugualmente punta a non abbassare la guardia sulla qualità delle acque e sugli abusi che minacciano le coste italiane.